Pescara sportiva a lutto per la scomparsa a 66 anni di Vincenzo Zucchini, uomo bandiera dei Biancazzurri, colpito da una malattia. Il suo esordio con la maglia del Pescara risale al campionato 73-74, coronato con il ritorno tra i cadetti dopo 25 anni. Nel 77 è il capitano del Pescara di Cadè che conquista la storica promozione in Serie A, il bis due anni dopo con Angelillo. Chiude le sei stagioni da calciatore del Pescara con 185 presenze e 24 reti realizzate. Dopo il Pescara passa alla Lazio, da lì al Vicenza, infine alla Salernitana dove chiude la carriera nel 1983. Zucchini torna in Abruzzo per iniziare il percorso da allenatore, prima Chieti, poi Sulmona, per poi tornare a Pescara al fianco di Giovanni Galeone che sostituisce dopo il suo esonero in Serie A. E c'è proprio Vincenzo Zucchini in panchina nella indimenticabile vittoria per 5-1 contro la Juventus all'Adriatico il 30 maggio del 1993. Nel 2007 allena il Giulianova in Serie C, poi torna in Biancazzurro da team manager nel 2010 ed è la stagione del trionfo con Zeman che regala ai Biancazzurri ancora la Serie A. Atleta simbolo e allenatore scrupoloso Vincenzo Zucchini sarà ricordato dai tifosi del Pescara e da tutti gli sportivi abruzzesi come un vero uomo di sport, figura integerrima, mai sopra le righe, autentica guida per le generazioni future. Un vero esempio di lealtà sportiva e di passione per un calcio pulito. Addio capitano.